Siamo nello studio della trasmissione fronte del porto, la nuova trasmissione che si occuperà di tematiche portuali, di economia marittima, in questo caso l'apertura è stata dedicata a un bel faccia a faccia con Federico Barbera, presidente di Assimprese e di Uniport Reduce, tra l'altro da una riunione significativa e attesa, il tavolo di partenariato, sono stati affrontati vari argomenti che riguardano il futuro, il presente ma anche il futuro degli scali marittimi di Livorno e Piombino, quali sono i dati salienti che sono emersi? Dunque ci siamo confrontati tra le varie organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali principalmente su alcuni argomenti, il primo è il nuovo regolamento per quanto riguarda le concessioni, questo regolamento recepisce in linea di massima moltissime delle aspettative che le imprese avevano di un regolamento che garantisse un'equidistanza dell'autorità portuale come ente garante e giudicante delle singole proposte portuali. L'altro è quello del lavoro portuale sul quale occorrerà anche su questo riflettere nuovamente e poi il nuovo regolamento per la commissione consultiva. Brevissimamente consentitemi di salutare Asse Imprese Civitavecchia che nasce in questi giorni proprio per la necessità che le imprese del territorio, le imprese portuali del territorio hanno di rappresentare se stesse. Asse Imprese Civitavecchia